Ben ritrovati in primo piano la sfida dei comuni in Campania per far fronte al rischio di un'emergenza rifiuti, ma parleremo nel corso di questa nostra rubrica, soprattutto del nuovo piano della differenziata per la città di Benevento. Incontriamo il dottore Donato Madaro che è l'amministratore unico della SIA di Benevento, ben ritrovato, grazie come sempre per la disponibilità. Allora intanto le chiedo subito quali sono le difficoltà per le amministrazioni locali per aumentare le cifre della differenziata, che cosa manca in Campania? Sulla raccolta differenziata le percentuali nel contesto beneventano sono abbastanza elevate ma lo sono già da anni, Benevento da questo punto di vista è una provincia virtuosa. Il problema è un po' il mantenimento di queste percentuali in un contesto in cui l'impiantistica è completamente mancante, quindi noi abbiamo un ciclo integrato che lo è tale solo sulla carta, ma di fatto è un ciclo molto frammentato. Quindi quando si differenzia, tutta la parte differenziata purtroppo prende la direttrice verso il nord dove oggi esistono quasi tutti gli impianti, per cui si vanifica tutto ciò che si differenzia sul territorio in favore di un recupero, di un riciclo che poi viene fatto su altri territori, anche se vuole con un sbocco occupazionale, perché da lì poi c'è un recupero anche di energia, c'è occupazione e ci sono vari utilizzi del materiale che viene recuperato. Quindi noi facciamo fatica per recuperarlo, ma poi lo portiamo in altre zone, in altri contesti dove viene recuperato e si fa anche profitto e reddito. Ecco, in Campania fa sicuramente discutere il caso Napoli, percentuali sempre molto basse, come giustificare questa vicenda del capoluogo campano? Napoli è un contesto particolare, quindi c'è una grossissima difficoltà oramai da anni. Io ricordo quando ero dirigente in Regione con Valterghian e Pini, proviamo a fare un piano di raccolta differenziata importante, ma da allora noto che quelle percentuali che erano intorno al 20% non si muovono, quindi c'è una grossa difficoltà da parte del contesto. Questo credo sia dovuto anche a mancanza di impiantistica, perché mancando gli impianti c'è anche una non abitudine, insomma non percepire da parte della cittadinanza il recupero effettivo di un materiale. Quindi oggi il fatto di recuperare e mandarlo a trove, fra l'altro ci sono anche immagini, molte immagini anche su Roma città, ci sono state delle inchieste dove si vede il rifiuto che una volta riciclato viene poi mischiato. Quindi francamente poi questo è un cattivo esempio per i cittadini, per poter differenziare. In Campania si continua a polemizzare sui rughi tossici dei rifiuti, soprattutto tra il napoletano e il casertano. Il ministro Costa proprio oggi sottolineava come la differenziata potrebbe in qualche modo aiutare a combattere questo fenomeno, è davvero così? La differenziata aiuta perché poi aumentando le frazioni recuperabili c'è meno indifferenziato che può prendere vie diverse. Però francamente non vedo sulla differenziata, invece un forte stimolo e pungolo potrà avvenire soltanto quando si metterà finalmente mano alla parte impiantistica, soprattutto sulla parte dell'organico dove oggi non ci sono impianti, quindi si pagano anche prezzi molto elevati, con i cittadini si sono costretti poi a pagare una tari molto elevata proprio per la mancanza di questi impianti, così come su tutta la filiera del multimateriale, quindi carta, cartone, plastica, insomma tutte le frazioni che oggi possono trovare degli sbocchi interessanti in ambito di green economy, quindi di economia circolare. Ecco a Benevento siete intanto pronti a partire con il nuovo piano per la differenziata, che cosa cambia rispetto al passato? Noi partiamo dal 6 gennaio, elimineremo le campane stradali per la raccolta del vetro, quindi introduciamo la raccolta domiciliare anche del vetro, quindi completiamo tutto tutte le frazioni dalla parte differenziata e inizieremo dal 2 gennaio a togliere le campane stradali dalla città, quindi ci verranno un paio di settimane, quindi in progress arriveremo per metà gennaio ad aver tolto completamente le campane ed aver introdotto la raccolta porta a porta, così eviteremo anche questo fastidioso esempio, questa inciviltà legata a lasciare i sacchetti del vetro vicino alle campane, che è un fenomeno purtroppo di inciviltà abbastanza diffuso che si è riscontrato in questi anni, quindi questo è stato fortemente voluto dall'amministrazione comunale, dalla società e ci siamo insomma riusciti, quindi avvieremo un importante piano di comunicazione, di concerto con il CONAI, l'abbiamo presentato il mese scorso, questo per sensibilizzare nuovamente i principi della raccolta differenziata, introdurli soprattutto nelle scuole, andare un po' dei giovani, dei ragazzi a inculcare questi principi, questi concetti per fare in modo di poter arrivare a delle percentuali che già sono elevate, con 64%, tra l'altro tassi di riciclo al 55%, quindi siamo i primi nel meridione d'Italia con il tasso di effettivo di riciclo, quindi ciò che si differenzia viene effettivamente recuperato nell'ambito della filiera del differenziato e questo ci aiuterà e ci potrà aiutare. Poi ci sono in itinere altre iniziative molto importanti come questa attuazione del piano industriale che abbiamo attuato a fine 2018, quindi siamo in corsa per poter andare nel prossimo triennio ad adottare degli spazi significativi di crescita dal punto di vista della cristallizzazione di una situazione anziannale nel circolo di rifiuti importante. Quali sono le difficoltà che state incontrando rispetto ai dati? Lei ha già fatto in qualche modo chiarezza, ma adesso l'obiettivo qual è? Avete definito un risultato che volete raggiungere con questo nuovo piano? Sì, noi abbiamo un obiettivo target del 70% differenziato, chiaramente questo è legato poi alla realizzazione innanzitutto alla costituzione del Comune Capoluogo come previsto dalla legge regionale 14 di ambito autonomo, quindi noi faremo ambito a sé, nell'ambito pur essendo in atto provinciale, ma i Comuni Capoluogo possono essere dei subambiti che possono poi dare, no possono essere anche un po' di, possono come dire affidare il servizio alla, quindi l'Asia troverà una sua collocazione nell'ambito del Comune Capoluogo, quindi questo già è un tassello importante e c'è su questo un tema in ambito del Consiglio Comunale agli inizi di gennaio. Poi siamo in fase di rinnovo del Parco Otomezzi, vogliamo puntare a una impiantistica, a poter dare un supporto nella realizzazione di impiantistica sul multimateriale attraverso un piccolo centro di pretrattamento e preselezione del materiale per migliorarne ancora di più la qualità prima di andare nelle varie piattaforme, quindi questo per evitare costi di trasporto di materiali e fare in modo che il materiale arrivi nelle piattaforme, negli impianti per pulito e quindi senza l'attribuzione di cali, quindi si possa poi generare un relativo ricavo. E poi vorremmo dare un contributo nell'ambito del ciclo in ambito provinciale, ci siamo candidati, anche la società ha trovato un suo equilibrio economico dopo le grosse difficoltà degli anni scorsi, adesso è candidabile per l'ottenimento di un affidamento in aus di qualsiasi natura, sia in ambito comunale ma anche, o travalicando semmai il confine comunale. Intanto con questo nuovo piano siete anche pronti a dare la caccia agli evasori, almeno di questo si è parlato in questi primi giorni, dalla distribuzione dei contenitori per la raccolta del vetro che cosa è emerso in pratica? Quello è stato, non era lo scopo precipico, però insomma diciamo che poi dalla distribuzione dovendo esibire i pagamenti, è stato un modo, diciamo si è attribuita questa mancata consegna indirettamente ad un fatto di evasione. In verità noi stiamo continuando a consegnare, l'abbiamo fatto in due punti, adesso stiamo proseguendo la consegna dei secchielli per poter partire, ripeto, dal 6 gennaio con il porta a porta del vetro presso il nostro ecopunto dove c'è una postazione fissa adebita alla recessione e questo è chiaramente, ci sono dei numeri che ci dicono che non c'è stata, ci siamo alla metà della consegna, un'altra metà non è ancora pervenuta, insomma immaginiamo che può essere un po' il clima natalizio. Chiaramente non c'è automatismo tra mancato il ritiro dei contenitori e l'evasione, ma chiaramente il sospetto nasce ovviamente. Però si stanno facendo dei controlli incrociati tra il comune e il soggetto adebito alla recessione, quindi si stanno facendo, e l'Asia stesso per verificare alcuni dati. Torniamo alla sfida di Benevento sulla differenziata, come si può puntare a ridurre la tariffa, su cui chiaramente i cittadini sono molto sensibili? La riduzione della tariffa passa innanzitutto per la realizzazione impiantistica, perché tenga conto che la voce più significativa nell'ambito della tariffa è il costo dell'organico, dove oggi si pagano delle cifre intorno ai 230-240 euro alla tonnellata e tenga conto che nel nord Italia ci sono impianti che vanno in brecchiva in 80-90 euro alla tonnellata, quindi paghiamo 5-6 volte in più di quello che effettivamente si paga al nord e considerando che si generano, solo il Comune Cavalugo fa 8 mila tonnellate circa di umido, significa pagare un milione in più all'anno di quanto pagherebbe un cittadino del nord Italia. Quello dell'organico è soprattutto in province virtuose, come la di Benevento, come lo è anche quella di Avellino, virtuosismi così poi sono vanificati dal fatto che pagare 230 euro alla tonnellata di organico per mandarlo su al nord in altri impianti diventa veramente un salasso per il cittadino in termini di tariffa che paga, quindi l'importante e fondamentale è la realizzazione di impiantistica e sull'umido come prima e poi anche sul multimateriale a cogliere a migliorare la realizzazione di impianti che possono mettere a sistema tutto ciò che viene riciclato. A Benevento abbiamo un altro problema che è quello dello stir, lo stir di Gesalduni ancora fermo, quindi noi conferiamo l'indifferenziato e quindi all'altrettante tonnellate significative presso lo stir di Tufino dove abbiamo tragitti enormi, abbiamo ancora code interminabili, quindi abbiamo mezzi che partono la mattina e rientrano la sera, questo comporta straordinari per gli autisti che vanno ringraziati per le lunghe attese che fanno giornate intera verso l'impianto, però questo è tutto un costo eccessivo che i cittadini poi vanno a sopportare. Benevento c'è sicuramente una situazione molto complessa anche per quanto riguarda la società provinciale, la SAMT, ci sono difficoltà di vario genere, intanto lei Madaro il futuro come lo vede per quanto riguarda proprio la questione rifiuti nel Sannio? Nel Sannio bisognerà risolvere questo problema, innanzitutto bisogna risolvere il problema appunto della SAMT o comunque della gestione dello stir, quindi oggi con la legge regionale la competenza è la competenza dell'Ato, quindi l'Ato dovrà individuare il soggetto gestore dello stir e anche della discarica di Sant'Arcangelo che è un altro tassello importante perché consentirebbe di chiudere un ciclo importante, riattivando stir e discarica Benevento oggi potrebbe essere una delle province che hanno la maggiore autonomia rispetto a tutte le altre e quindi si potrebbe attraverso un gestore valido nella gestione della discarica appunto dello stir di natura provinciale con il quale poi i vari soggetti che saranno individuati a gestire la raccolta potranno convenzionarsi, potrà candidarsi ad avere risultati importanti sia in termini di percentualità di raccolta che già oggi sono consolidati ma soprattutto in termini di riduzione della tariffa. Staremo a vedere intanto complimenti per il lavoro che sta portando avanti con la SIA di Benevento, grazie a Donato Madero, grazie in regia per noi Aldo Fenizia, naturalmente ringraziamo quanti ci hanno seguito, arrivederci. Grazie a tutti